Nuovo giorno, nuovo rumor, perché diverse fonti affermano che lo Spider-Man, interpretato da Andrew Garfield, apparirà all'interno di Venom 3. Ora, ovviamente si tratta di un rumor, quindi prendete queste parole con le pinze. Devo essere sincero inoltre, le fonti che hanno dato questo rumor, questa possibile notizia, questa possibile apparizione all'interno di Venom 3, non sono delle fonti piuttosto attendibili. Quindi finché non ci saranno delle fonti attendibili, non possiamo dire che con certezza o molto probabilmente ci sarà il ritorno di Garfield a vestire i panni di Peter Parker all'interno di Venom 3. La possibilità ci può essere? Secondo me sì, ci può anche stare ragazzi, però dobbiamo ben capire cosa ha in mente la Sony. Se in questo Sonyverse, chiamiamolo così, Venomverse, quale sarà lo Spider-Man? Perché si vocifera sia quello di Tobey Maguire, però siccome avanti di età molti sostengono che invece è quello appunto di Andrew Garfield, altri invece sostengono che in realtà lo Spider-Man di questo universo condiviso che sta cercando appunto di creare la Sony con Venom, Venom 2, Morbius, Kraven, che arriverà quest'anno al cinema, ci sia in realtà Miles Morales come Spider-Man e ci potrebbe anche stare, perché dopo, insomma, il successo che sta avendo un nuovo universo è Across the Spider-Verse, Miles Morales è apparso anche nel videogioco Marvel e Spider-Man, ha avuto un videogioco tutto suo. Insomma, diciamo che le probabilità ci possono anche stare che ci sia Garfield, però non è detto. Io spero di no, sinceramente, perché per Venom 3 ho una paura assurda, assurda. Io non andrò al cinema con pregiudizi, però ho moltissima paura. Il secondo film mi ha fatto veramente schifo, anche se mi ha intrattenuto, devo essere sincero, però oggettivamente non è un film bello, ragazzi. Poi può piacere, ripeto, mi è piaciuto, è intrattenuto, mi ha anche divertito a tratti, però, insomma. Quindi, voi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo nuovo rumor e noi, come sempre, ci vediamo la prossima.